Nell'ambito del progetto Cittadini in Crescita Attivamente si è svolto ieri l'incontro in comune tra gli alunni ed i genitori delle comunità scolastiche di Sant'Egidio e gli esperti della questura di Teramo. Un importante incontro specialmente dopo i fatti di cronaca degli ultimi giorni. Sindaco Angelini è stato un incontro importante ma anche molto partecipato. Sì, ieri sera c'è stato un incontro di notevole importanza visti anche gli accadimenti che ci sono stati in questo periodo. Io ritengo fondamentale che la questura di Teramo come è stata e ci tengo tantissimo a ringraziare il dottor Di Benedetto, Roberto Di Benedetto, il dottor D'Alfredo D'Agostino e anche la funzionaria che sono venuti qui in sala consigliare attraverso un progetto promosso dalla scuola dal dirigente Danilo Massi che ha coinvolto tutti i ragazzi delle scuole medie e di genitori sul problema della rete internet. Perché internet oggi è vista come una grande opportunità non solo di lavoro ma anche di svago. è un social network dove tanti ragazzi oggi dialogano, forse non dialogano più nelle piazze, nei luoghi della cosiddetta convivenza civile che da sempre c'è stata, oramai ci siamo un po' spostati sul web paradossalmente. Nelle stesse famiglie ci sono mamma, papà e figliolo che sono in tre computer diversi e che in tre computer diversi stanno sulla rete e non dialogano fra di loro. Ieri il dottor Di Benedetto ha sviscerato un po' tutte le problematiche di internet, lo ha saputo fare per bene e è stato veramente un convegno di grande passione, sia da parte di chi ci raccontava le problematiche che ci sono, i grandi pericoli che ci sono nella rete di internet, sia da parte di chi ascoltava. Perché dall'altra parte non sai chi c'è, che dialogano con questi ragazzi, vengono addescati e purtroppo succedono quei fatti come quello della cronaca di pochi giorni fa.